Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. L'aumento esponenziale dei contagi nell'isola e soprattutto nel territorio, con il conseguente impegno degli operatori sanitari e la carenza di strutture, sta destando fortissime preoccupazioni nelle segreterie territoriali CGL e Cisle Will di Sassari. Questa mattina nella sala storica della CGL, in Largo Budapest, una conferenza stampa per denunciare una gestione improvvisata della sanità da parte della regione, scordinata. Nell'incontro con la stampa si è parlato di mancanza di posti letto, di carenza di infermieri, medici, operatori sanitari e ausiliari. Per questi gravi motivi i sindacati proclamano lo stato di agitazione e chiedono un incontro immediato con il prefetto, l'assessore alla sanità e i vertici della sanità territoriale per cercare soluzioni che risolvano l'emergenza ma che soprattutto abbiano una programmazione condivisa. Abbiamo chiesto l'incontro al prefetto e stilato questo documento di denuncia per dire al presidente Solina se alla giunta regionale che ora basta. La sanità del sassarese è in crisi, una crisi assoluta e il rischio è il tracollo. Abbiamo scritto al prefetto per denunciare questa situazione e chiedere che la dirigenza della TS locale, della SSL di Sassari e della U cambi rotta anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali e modifichi questo modo di affrontare l'emergenza. Noi chiediamo appunto che vengano utilizzate al meglio quelle che sono le strutture del territorio come l'ospedale di Uzzieri e l'ospedale di Alghero perché ad oggi non esiste alcun coordinamento complessivo per quanto riguarda sia i protocolli ma per quanto riguarda anche l'utilizzo di tutte le strutture. Chiediamo nel contempo che in questi ospedali oltre ad affrontare il problema del Covid vengano affrontate anche tutte le altre patologie. Abbiamo una situazione davvero difficile al pronto soccorso cittadino che tra l'altro è l'unico pronto soccorso che sta facendo carico di tutti i bisogni di salute del Nord Sardegna. Tra l'altro segnalo che per quanto riguarda le attività di sanificazione e bonifica delle stanze di dirigenza si sta facendo poco e rispetto a questo ci accorgiamo, anche ci segnalano i lavoratori che all'accesso al ricovero i pazienti hanno un tampone negativo poi durante l'agenza si positivizzano. Ecco questo crediamo che sia un elemento di forte criticità che potrebbe anche aumentare e amplificare il problema all'interno dell'ospedale. Pur riconoscendo la criticità dell'emergenza il presidente della giunta regionale Cristian Solinas frena su eventuali restrizioni fino a che i numeri del contagio potranno essere gestiti con misure alternative. Ha dichiarato Solinas non ci sarà alcun lockdown per la Sardegna ma una serie di provvedimenti mirati finalizzati alla massima riduzione della possibilità di circolazione del virus. Provvedimenti che saranno adottati con specifiche ordinanze nei prossimi giorni, anche alla luce del costante confronto con tutte le forze politiche del Consiglio regionale, con il CTS e con il Governo nazionale. La linea regionale è stata illustrata ieri nel corso della conferenza dei capi gruppo, una riunione che si è protrata per quattro ore e alla quale ha partecipato anche l'assessore alla sanità Mario Niedu e alcuni membri del CTS regionale. La situazione, ha detto il presidente Solinas, è preoccupante. Richiede il massimo impegno da parte di tutti, istituzioni e cittadini. Ancora una volta faccio appello al grande senso di irresponsabilità dimostrato dai Sardi, senza il quale non avremmo potuto affrontare e vincere questa difficile sfida. Nella giornata di ieri è anche arrivato il nuovo picco di contagi, mai registrato all'inizio della pandemia. 349 casi di positività, 36 ricoveri in terapia intensiva su tutto il nostro lavoro. territorio regionale, 80 i casi di coronavirus solo nel Sassarese. Individuato anche un albergo in città, il Grazia di Ledda, dove saranno ospitati i pazienti contagiati meno gravi. Solinas ha comunque anticipato che nei prossimi giorni saranno adottate ordinanze per assicurare un maggior livello di controllo sanitario con il ricorso alla didattica a distanza, nelle scuole superiori e all'università, la riduzione delle tratte aeree e marittime, cercando però di salvaguardare le attività produttive. Scuole al tempo del Covid. Paolo Zentile, dirigente dell'Istituto di Monte Rosello Basso, gestisce quattro pressi, centinaia di alunni e le incognite di una didattica marcata stretta dalla pandemia. Dopo sette mesi di lockdown, da settembre un nuovo inizio con la collaborazione di tutti gli istituzioni comprese, pur tra le difficoltà come quelle recenti tra i nove presidi degli istituti comprensivi e il Comune. Ci tengo proprio a sottolineare da parte mia e da parte anche dei miei colleghi il fatto che non ci sono degli atteggiamenti polemici a priori. Quest'anno magari sarebbe stato opportuno intervenire prima dell'avvio, cioè prima di settembre. Devo dire però che molti lavori, parlo per la scuola naturalmente, sono stati fatti, siamo stati tenuti in considerazione, naturalmente però nel momento in cui siamo partiti siamo trovati con i lavori in corso da una parte, i nostri lavori in corso dall'altra. Ma è la lunga ombra del coronavirus a condizionare il quotidiano di allievi e personale scolastico. I protocolli da seguire in caso di positività sono facili da applicare sulla carta, molto meno nella realtà. Il vero problema è non avere un referente diretto all'interno della TS per quanto riguarda le scuole, quindi avere un canale sicuro, diciamo così, di contatto e di comunicazione. Un solo caso di positività per adesso nell'istituto, risalente oltre dieci giorni fa, subito seguito dai protocolli sanitari e dalle preoccupazioni dei genitori che chiedono una maggiore condivisione delle informazioni. Abbiamo un discorso di cerchi concentrici, così come fa l'ASL. Noi, diciamo, informiamo le famiglie e l'utenza relativa al, diciamo così, in diretto contatto con il caso di positività. Non avrebbe senso andare a informare, che so, famiglie di altre classi, di altri plessi. Intanto continuano i ritardi nella fornitura dei banchi richiesti. Le misure spedite al Ministero sono state disattese. Alla prima consegna dei banchi, i 90 banchi tanto attesi, per esempio, della sede di Via Valdenda, abbiamo constatato, con molta delusione, che i banchi non erano quelli che avevamo richiesto, ma avevano delle misure differenti. Non resta quindi che arrangiarsi, girare col metro e assicurare il distanziamento. La scuola Sassare Senon è sempre più affidata alla buona volontà e alla creatività di chi vi lavora. Bene il gestore unico, ma occorre vigilare per sorti dell'aeroporto di Alghero che deve svolgere un ruolo strategico per tutto il territorio del nord-ovest e centro Sardegna. Così l'ex sindaco di Alghero Marco Tedde ha commentato la cessione della maggioranza azionaria della società di gestione dell'aeroporto di Olbi a Costa Smeralda alla F2I, che detiene la maggioranza della Sogeal, che gestisce lo scalo di Alghero. Secondo Tedde, questa operazione è positiva se finalizzata a creare sinergie tra le due infrastrutture con pari opportunità di rilancio. Ma per Alghero, dopo il calo verticale di passeggeri del periodo precedente alla pandemia, occorrono progetti e nuovi orizzonti che oggi non si intravedono. Nonostante l'attuale socio di maggioranza sia il principale fondo infrastrutturale italiano che oltre all'aeroporto di Alghero gestisce quelli di Torino, Trieste, Napoli, Linate, Malpensa, Bergamo e Bologna. Occorre che la politica regionale locale, fin d'ora, stiano in campana e intervengano per conoscere gli obiettivi strategici della fusione e per sollecitare la F2I ad integrarsi nel territorio, ascoltandolo e facendolo partecipare alle scelte, sottolinea l'esponente politico di Forza Italia. Secondo l'ex sindaco di Alghero, questa è un'opportunità di crescita per entrambi gli scali, ma occorre chiarezza nel definire ruoli e target e nel mettere in campo investimenti. Non vorremmo, conclude Tedde, che qualcuno pensi che l'aeroporto di Alghero possa svolgere il ruolo di parente povero. Migliaia di persone scompaiono ogni anno, senza lasciare traccia e spesso senza essere cercate. Il dato nazionale, drammatico, peggiora nel contesto isolano, ridotto a regione cadetta per mezzi e risorse. Questo è quanto emerso dal convegno in diretta streaming Missing Vite Sospese, organizzato dall'Associazione Culturale Ammento. A discutere l'argomento dal punto di vista forense, psicologico e investigativo, il generale Luciano Garofano, l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli e la psichiatra Alessandra Nivoli in un incontro moderato dall'avvocato Roberto Vannini. Due anche le testimonianze dirette, quella di Roberto Manca, il cui padre è introvabile da 2017, e di Giuseppe Angioni, fratello di Salvatore, sparito prima del lockdown e mai fatto oggetto di una campagna di ricerca. Per il generale Garofano, ex comandante dei RIS di Parma, servono tempestività di intervento e coordinamento, forze quasi assenti in Sardegna. Viene da pensare che la Sardegna non è Italia. Io una volta ho fatto una battuta a un magistrato dicendo scusi ma siamo in Italia, scusi ma seguiamo la legge italiana, perché purtroppo le cose che io ho visto qui siamo un attimo in ritardo rispetto agli altri. Al dramma di Discomparsi la tragedia di Chi Rimane, costretto a un'attesa infinita e senza speranza. In Chi Rimane noi possiamo andare a studiare tutta una serie di sentimenti come la sensazione dell'incertezza del mondo, della vita, la sensazione del distacco, la sensazione del tempo che passa in maniera differente, l'ambivalenza tra i sentimenti della tristezza per chi non c'è più e chi non dà informazioni, ma anche dalla rabbia, dalla colpevolizzazione. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Sardegna in collaborazione con Endas Sardegna, l'Università di Sassari, il Comune, l'Accademia Italiana di Scienze Forensi, Penenope Italia Onus, l'Associazione Regina Margherita e l'Istituto Internazionale di Scienze Forensi. Generali, partner di vita. Dino Morayer, la sfida è infinita, domani a Mestre per il quinto round di Regular Season, bianco-blu e oro-granata, l'ennesimo conflitto sportivo culminato con gli acuti di Supercoppa e Campionato del 2019. I lagunari vengono dal Tonfe in Euro Cup col Badalona e l'inatteso stop casalingo due settimane fa complice una superpesero. Sorrisi invece tra i sassaresi, autori di due recenti prove maiuscole al Palaserra di Migni, Fortitudo e soprattutto Galatasarai, le due vittime di una squadra in crescita, trascinata da spesso, sempre più in odore di nazionale Bilan, devastante sotto le plance. Ma sono le new entry a prospettare sviluppi rosei. Jason Barnell, protagonista sportellata in post basso, Piusica on ice da tre, traierabile nei movimenti di scarico. E Justin Tillman, che recupera con passi da gigante, a ritardo di preparazione, crescendo in modo esponenziale. 17 i punti per lui con i turchi, 7 rimbalzi e 11 di plus-minus in 20 minuti. Mister De Raffaele auspica che i suoi giochi in una partita intelligente. Gerosa, assistant coach di Pozzecco, spera invece nell'unità di intenti dei suoi. Servirà la stessa durezza mentale che abbiamo avuto contro il Galatasarai. Dobbiamo essere cattivi e aggressivi tutti insieme sul perché, sostiene Gerosa. Qualità da cui non si può prescindere. I veneti, feriti delle sconfitte, cercano il riscatto. Ai sardi il compito di ribattere, conquistando la quarta vittoria di seguito. Oggi Torres in campo per l'anticipo della quinta giornata allo Stadio Francioni contro Latina alle ore 15. I rosso-blu arrivano dalla sconfitta settimanale nel recupero della terza giornata contro la Noccellina. La squadra di Mister Gardini per evitare spostamenti è rimasta fuori tutta la settimana, ma oggi dovranno giocarsi il tutto per tutto contro i laziali ed evitare la quinta sconfitta consecutiva. Riposo forzato causa Covid invece per i Bianco Celesti. La gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D del Gironi G. Fra Visa Artena e Latte Dolce, in programma al Comunale di Artena, domenica 25 ottobre alle ore 14.30, è stato rinviato la Visa Artena, comunicato in settimana al club sassarese, che è un tesserato risultato positivo al Covid-19. La società ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo in vigore e informato la Lega Nazionale di Lettanti e si è così deciso per il rinvio del match. Grazie a tutti.